Il secondo set Abbiamo fatto la partita fino alla fine del secondo set, l'abbiamo controllato noi, eravamo sempre davanti, abbiamo messo una grande pressione su loro, l'hanno sentito, eravamo lì sopra. E' peccato che non vinciamo questo secondo set, che secondo me è la chiave della partita, perché infatti perdiamo questo set e tutte le cose hanno cambiato. Dopo non siamo riusciti a ritrovare il nostro gioco, l'abbiamo preso come se avevamo preso un schiaffone, è difficile di recuperare dopo. Eravamo lì, non è che eravamo a 10 punti sotto, eravamo sempre a 3, 2, 3, 4 punti sotto, potevamo farlo però l'energia aveva cambiato di campo. Come se avevamo preso un schiaffone, però noi dobbiamo ripartire, non dobbiamo smettere di giocare come l'abbiamo fatto. E' un peccato, è un peccato per avere il secondo set, perché è la chiave del secondo set. Io mi aspetto una grande, grande partita, è la nostra ultima chance di vincere. Contro una bella e grande squadra come Perugia a casa è una bella opportunità sia di giocare una bella partita, divertirci, sia di portare la vittoria. E lo possiamo fare, l'abbiamo dimostrato l'altra volta e anche oggi, che eravamo lì e che siamo una squadra che non mola mai. Allora sarà una grande partita, mi aspetto.